...e sempre mollare mai, così recitava oggi uno striscione interista. E' una vittoria pesante quella della squadra di Zaccheroni anche perché neutralizza la sua pessima versione del primo tempo. Grande, grandissimo Lecce per mezz'ora ma con il grave torto di non saper capitalizzare adeguatamente la sua superiorità. E poi ripresa di marca interista con orgoglio con la classe dei suoi campioni, due gol in 15 minuti e nel finale anche la cilieginia di Vieri festeggiatissimo. Per l'Inter 22 punti nelle ultime nove giornate. Lecce scopre che finora in questo campionato ha perso 10 punti nel confronto tra i risultati dei primi tempi e quelli finali. Andiamo dunque a vedere rapidamente le immagini. Per la prima volta insieme da inizio gara Vieri, Cruz e Martins. Negli rossi chiede aggressività, organizzazione e corsa alla sua squadra. In apertura al secondo c'è un errore di Cannavaro. Calcio d'angolo, pace Vanton, imbambola la difesa nero-azzurro, ne approfitta Bovo. Ottimo l'inserimento del difensore giallo-rosso al suo primo gol in Serie A. Abbastanza poco reattivo Adani, sbuca da dietro Bovo e non può nulla il piccolino Emre nel tentativo di salvataggio. Dieci tentativi a rete del Lecce nel primo tempo. Qui Conan, poi una chance per Cervanton che peraltro verrà nel secondo tempo ammonito, era difidato, salterà Lecce-Bologna. Ha sbagliato qui la distanza ravvicinata. L'Inter si vede per la prima volta pericolosamente in attacco con Cruz, la sua centesima gara nella Serie A italiana. Grande Polexic. Poi il tentativo di Bovo anche su calcio di punizione. Pronto Toldo, ma guardate che Varko concede l'Inter. Ancora Cervanton, debole il suo sinistro, fa in tempo a recuperare la posizione Toldo. Poi una tremenda accelerazione da parte di Martins. Superato Siviglia, tre interventi consecutivi di Polexic. Con il montaggio di Donald Conti passiamo alla ripresa. E c'è il gol di Cruz su punizione. Lecce ingenuo, niente da fare per Polexic. Palla interna, palla in rete. Festeggia dunque Cruz la sua centesima gara nella Serie A. Si procura lo spazio per aggirare la barriera. Davvero ingenuo la squadra leccese. Poi Conan, un tiro cross, non può arrivare in tempo Cervanton. Cruz va a cercare Martins. Ottima l'assistenza per Vieri, c'è solo la potenza però nel sinistro di Vieri. L'assistente Ricci concede un calcio d'angolo all'Inter. È un errore perché l'ultimo a toccare è Zanetti. Inutile le proteste di rullo del Lecce. Dalla bandierina Emre e il corner viene sfruttato alla perfezione da Cordoba. L'attaccamento di Cordoba alla maglia interista. Ha mostrato ai tifosi il nero-azzurro. È finita la benzina per il Lecce. Vieri innesca Martins. Vince il duello con Stovini ma ancora grande il portiere Polexic. Rivediamo in replay quest'azione. Poi non si coordina adeguatamente Vieri. Ma sul lancio di Martins. Vieri alla fine colpisce. Inizialmente impaurito forse dall'uscita di Polexic a vuoto peraltro. E poi Vieri rende inutile il tentativo in estremisi di opposizione da parte del difensore Siviglia. In fuorigioco probabilmente Vieri al momento del lancio di Martins. Vieri che recupera il passo e segna il suo centesimo gol in gara ufficiale con la maglia dell'Inter. Cento volte fieri di Bobo Vieri dicono i tifosi nero-azzurri. Vieri incoronato addirittura dai suoi compagni. Un Inter che segna da 13 partite ufficiali lì nello studio. Un inter che segna da 13 partite ufficiali lì nello studio.